Aiuto c'è un creeper, no scappati per non esplodere perché oggi dobbiamo andare a fare tipo le pecore, dobbiamo andare a vederle all'interno Perché oggi dobbiamo vivere dentro le pecore, però se questo creeper non me lo lascia fare io come faccio a farvi vedere Dai per fortuna però ce l'abbiamo fatta, allora qua ci sono delle ceste e tipo vedremo Secondo me quella colorata è la migliore, no in realtà quella bianca forse è la migliore perché vedo tipo delle finestre ma non spoileriamoci Poi tipo andiamo a vedere tipo prima questa poi questa colorata che mi sembra molto caruccio Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare like e commentare con pecorona grande nei commenti Mi raccomando se lo fate capisco che voi volete effettivamente vedere questi video belli Però prima di tutto vediamo un attimo cosa ci offre qua questa spada Allora ci sono un sacco di tinture inutili, poi dopo c'è del pesce Beh no in realtà le tinture possono anche far aiutare a decorare la casa migliore, più bellamente, più bello Poi dopo adesso andiamo anche tipo nelle fornaci No qua ci sono altri spawner di pecore Io mi sono appena reso conto di aver detto fornaci quando avrei dovuto dire Entriamo nelle pecore e questa cosa suona molto male Mi dissocio totalmente se state pensando male perché io non ho affatto pensato male Ad ogni modo posso, sto scherzando chiaramente Ah guardate qua altre ceste Bene mi fa proprio piacere vedere queste ceste magiche all'interno del mio mondo magico di minecraft Pieno di pecorone grosse Cos'altro posso prendere? Beh basta perché mi sono rotto le palle di vedere delle ceste Scusatemi la volgarità ma insomma non ho proprio voglia Però adesso ho proprio voglia invece di vedere all'interno delle pecorone Delle pecorone Sono proprio curioso Vediamo Poi chissà cosa c'è in quella la più bella E ancora in quella più grande raga Cioè quella più grande la migliore di tutte Entriamo qua dentro Allora qua Devo dire è un posto molto caruccio Devo dire qua c'è die guide praticamente Bene mi fa piacere Dice ah ciao sono qua a leccare le palle Vabbè insomma Ci sono un po' di cose strane che non ho voglia di leggere Però praticamente penso che sia il tizio che mi vuole indicare un po' la strada del tutto No? Giustamente È un po' un leccanzo Che ovviamente va bene Cioè è bellissimo Anche perché vi ricordo che noi siamo aperti di mente Qua ci sono solamente tinture Non serve a niente Noi qua siamo aperti di mente praticamente Questa apertura di mente E all'interno di tutti noi Chiaramente noi qui Tutti quanti Ma anche voi dico che ci guardate È molto buona chiaramente È molto buona E tutti quanti ce l'hanno È una cosa indispensabile Infatti tutti sanno che se guardi Dunis Sei aperto di mente Automaticamente Per forza E guardate che nel 2021 è super importante Sei aperto di mente E quindi più Sei aperto di mente Più Sei Insomma Più 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 è meglio ecco Più è meglio diciamo Ecco Per non utilizzare termini strani Qua dice che È giusto Essere aperti di mente Che È giusto essere aperti di mente Che essere aperti di mente È esclusiva Di Dunis No scherzo Cioè nel senso Però chi mi segue Insomma si sa già Che siete aperti di mente Chi mi segue Oh guarda qua La pecorona Grossa È rossa È rossa È Il rosso È passionale Proprio come la passione magica Del rosso Può influenzare elementi Delle persone Maliziose Io sono una passione Ambulante Che sto dicendo Non lo so Questo è un'altra persona Che è di arcobaleno E dice che sono una guida E sono qua per insegnarti Come succhia Per Lo strano mistero Dell'arcobaleno Della Della pecora arcobaleno Sì senti Non me ne frega niente Allora Use this XP Bla 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 Praticamente posso utilizzare Queste XP Per aumentare Il mio livello Vabbè giustamente Posso fare tipo Però mi scusi Cioè nel senso Adesso perché mi dovrebbe Servire questa cosa Allora posso forse Chiamarle mie pecorone In un certo Qual modo Sì Tipo A te potrei chiamarti Potrei chiamarti Oddio Ok Mariangela Serpeverde Lei è magica Cioè tipo Lei è la migliore Mariangela Serpeverde Tu sarai la mia Maestra di vita Che sto dicendo raga Per favore Cioè sto impazzendo Secondo me Qua è fighissimo Che figata Magico E poi salendo qua sopra Cosa è che ci si trova Si trova un beato C'è po' di niente Però magari Scavando qua Però non posso scavare Perché mi si rompe Tutto quanto Però magari Scavando Mettendo tipo dei blocchi Sotto di me Praticamente Dei blocchi Dato che ho della lana colorata Posso mettere questi blocchi Sotto di me Questi blocchi mi aiuteranno A scavare qua sopra Posso scavare Sì Posso Certo che posso scavare E qua sopra c'è La pecora Vabbè Quindi qua c'è il tetto Della pecora Chiamolo tetto Chiamolo anche dorso Chiamatelo un po' come vi pare Cioè nel senso Io non sono qua a darvi lezioni Di chiamaggio di pecore Cioè tipo Se volete chiamare La spalla della pecora Maiala Potete farlo Se volete chiamare La spalla della pecora Scurreggiona Certo è un po' strano Però Potete farlo Insomma Per favore Non ricoveratemi In un ospedale psichiatrico Anche se forse avrei bisogno Di uno psichiatra Allora che ci penso Magari Chi lo sa Ci scappa un video Dallo psichiatra Scherzo Cioè nel senso Non farei nessun video Dallo psichiatra Cioè se ci andassi Non farei nessun video Dallo psichiatra Però invece vado Dalla psicologa Quello si Perché è bello Andarci dalla psicologa Ve lo consiglio a tutti quanti E guardate qua invece Ci sono delle ceste Altre ceste Adesso entriamo però In quella più grande Raga In quella più grande E come vivere In una pecora grande Quella è la migliore Mi sa anche Che questo è il motivo Per cui Io sto Diciamo Andando da qualcuno Di particolarmente Professionale In questo tema Però certo Qua mi hanno dato un arco Che posso utilizzare Contro le mie pecore Certo No povere pecore Ma cosa ho appena detto Ma io Sono È un sacrilegio Questo Non dovevo permettermi Di dire una cosa Di questo tipo Raga Cioè adesso La pecora maledetta Illy Si chiama così Mi ucciderà Nel sonno Cioè Ovviamente Su minecraft Prima di tutto E poi dopo Illy Intendo la pecora Avevo una pecora D'infanzia Che si chiamava Illy E quindi ho deciso Di Ok Adesso E definitivamente La pecora Illy Mi caccerà nel sonno E mi farà fuori Beh che ci vuoi fare Dopotutto Illy è un po' particolare Lei è una pecora Con tanta voglia di vivere Ma allo stesso tempo Ha molto da imparare Dalle pecore più mature Perché Illy è un po' impulsiva Diciamo Illy Io la conosco bene Illy Illy Per favore Non ti comportare così Scusate Mi ha fatto un attimo Il medio Mi stava lasciando Gli zoccoli in testa Mi stava per ammazzare Mi stava facendo brutte cose E quindi ho deciso Di sgridarlo un attimo Perché Devo dargli una raddrizzata A questa Illy Pazza A volte serve A volte Serve Siamo aperti di mente Tutti quanti Posso dire che sto Essendo un po' inquietante Però entriamo nella pecora Bella Mi dissocio Dico Entriamo nella pecora Dico In questa pecora grande Oh mio dio Mi dissocio Qualsiasi cosa Tu Voi stiate Tu Qualsiasi cosa stai pensando Mi dissocio Apri Cioè nel senso Non è vero Non mi dissocio Qualsiasi cosa Però Se stai pensando qualcosa di brutto Mi dissocio Nonostante comunque Si debba Si debba verificare Prima di Di dissociarmi Infatti non mi dissocio più Perché potrebbe essere Pericoloso dissociarsi Per una cosa che non si sa Cioè magari tu hai pensato Chi lo sa A qualcosa Non mi dissocio più adesso Scherzavo E nemmeno prima Mi sono dissociato Oh ma guardate Cioè veramente Non ho parole E guarda Qua c'è della lana Delle torce Che non me ne frega Caspita Cioè veramente Caspita me ne frega Delle torce Cosa ci faccio Però il piccolo Lo posso utilizzare Per scavare i minerali Giusto? Esattamente Poi vediamo anche cosa ci sarà Il piano di sopra Di Illy Perché lei è Illy Giustamente la pecora Illy È maledetta Infatti spero che non mi faccia esplodere Io so che c'è un modo per salire In teoria Anche perché ho visto sopra Che effettivamente c'è qualcosa Ah però mi sa che si sale Tipo dall'altra gamba Ok so che suona strano Però tipo Dalla zampa della pecora Non so come chiamarla Mi spiace Cioè nel senso Però devo dire Mi piace molto Cioè sarebbe figo Fare tipo Il villaggio Del re pecora Del pecoraio Olo Per favore Ripeto Non chiamate L'ospedale psichiatrico Perché potrebbero Ricoverarmi per sempre Sto scherzando Ovviamente Cioè Mi pareva ovvio Però guardate Che figata Sono il re pecoraio Con la casa più figa Del re Ma raga C'è una roba Veramente magica Cioè guardate qua Wow Ma c'è una figata Assurda Ma volete Mettere Questa è la casa Del re Questa è la Fottise Casa del re Cioè Ho detto Però Mi dissocio di nuovo Perché ho detto Una cosa brutta Secondo me Però Guardate la casa Del re Cioè Sono io il re Comunque Se non si fosse capito Qua c'è pure una torta Che potrei mangiarmi Le lecornie Molto buone Non so cosa io Abbia detto Ma Molto buona la torta Sono sicuro E poi qua Si può salire anche Ah non ho visto Ci può anche salire Ma ragazzi Se volete fare una serie qua Scrivetemelo nei commenti Io sarò Perfettamente felice Di Assecondare Le vostre I vostri bisogni Su minecraft Chiaramente E guardiamo qua Beh qua c'è un po' di cose Che non me ne frega assolutamente niente Però Io Vi dico una cosa molto importante Ovvero Ricordatevi di iscrivervi al canale Lasciare like e commentare Con pecorona grande Nei commenti Mi raccomando Se lo fate Capisco che voi Volete effettivamente Vedere questi video Belli Quindi mi raccomando Fatelo Perché appunto Capisco che Vi piace Soprattutto il like Lasciate like o dislike Se vi piace questo video Perché così capisco immediatamente Che voi Volete fare questa cosa Oppure no Oh bene Amici miei belli E noi ci vediamo Ad un prossimo video Mua E il bacione finale Ci serve sempre